Amici di Tecnandroid, quello che vedo entrate in i mani non è iPhone X, si chiama S9 ma non è neanche di Samsung è Leago S9, prende il nome appunto dalla casa di Samsung e assomiglia ad Apple iPhone X è purtroppo un sample, come potete vedere è stampato il display, non possiamo vedere tanto se non il design nella parte sinistra che occupa lo slot per l'espansione della memoria e per la sim il jack nella parte alta, fianco destro il bilanciere del volume e tasso di accensione e spegnimento mentre in basso ci sarà un Type-C, lo speaker e il microfono parte posteriore che anche qui ricorda tantissimo il prodotto di Cupertino con la doppia fotocamera a semaforo da 13 megapixel e il sensore di impronte digitali è tutto realizzato in plastica, i materiali se dovessero essere confermati sono abbastanza economici il prezzo si aggirerà intorno ai 120 euro, monta a bordo il Mediatek MT6750 con 4 GB di RAM e 32 GB di memoria, una batteria da 3300 mAh e Android 8.1 continuate a seguirci perché faremo un video anche del fratello maggiore S9 Plus per il momento da lo stand dell'EAGO e tutto un saluto di Emilio Colangelo per Tecna Android Grazie